Arciari, fermateli! Lui, fermateli! Stanno arretrando Li abbiamo appena scalfiti Cosa hanno in mente? Vogliono tirarci fuori No Cerca di tenerli lontani Poi torna al torrione Io mi occupo delle armi da serie Vengo con te No, resta con Taka Dobbiamo penetrare la linea E distruggere quelle armi da serie E distruggere la linea E distruggere la linea E distruggere la linea No, no, no! Oh Voi? 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 Hanno sfondato le mura. Ma possiamo ancora respingerli. Non sarà facile tornare alla fornezza. 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 Accidenti. È il generale Terwe. Pare si avvicino al torrione. Non sarà facile tornare alla fornezza. 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 Grazie a tutti. 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 E spingiamoli! E spingiamoli! Uccite, codardi! Yuna! La città è salva! Grazie a tutti. Noi! Non potete prestare e aspettare che i Mongoli attacchino ancora! Voi dite di non essere soldati, ma siete guerrieri. Possiamo sconfiggere gli invasori e salvare il paese. ma solo se stiamo uniti. Ma solo se stiamo uniti. Il tuo amico ha sconfitto uno dei miei migliori generali. gli uomini, i miei uomini, i miei uomini ora credono che lui sia invincibile. Tu dimostrerai che hanno torto. Non voglio la ricompensa per la testa di Jean. Hai smesso di avere a cuore i tuoi leali cappelli di paglia. Jean è il miglior spadaccino dell'isola. I miei uomini non possono uccidere. Ci sono tanti modi per eliminare un nemico. Trovane un altro. E se... non dovessimo ucciderlo? E' fatta. Yarikawa lotterà insieme a noi. Ma c'è altro da fare prima di riconquistare il castello Shimura.